Bianconeri, sulle cente, è forte a Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club di Zano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino, Juventus Roma. Diciassettesima giornata di campionato, sabato 22 dicembre, ore 20 e 30. Viaggio di andata e ritorno, più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 8 8 8 0 3. Cristian 349 68 000 66 Giuseppe 347 04 17 623 E sempre forza Juve, fino alla fine!